Siamo con il consigliere regionale della destra, Roberto Buonasorte, Presidente della Commissione Urbanistica della Bisana, per parlare del piano casa. Onorevole, quali sono i tempi per l'approvazione e per la trasformazione in legge? I tempi sono questi, entro metà febbraio dovremmo iniziare la discussione in commissione, il 4 è fissato il termine ultimo per presentare gli emendamenti da parte di tutti i consigli regionali e poi inizieremo dall'8 la discussione sull'articolato, quindi sulla legge in commissione che presiedo. Immagino che per metà febbraio la discussione sarà terminata e poi andremo in aula, ci vorranno a quel punto altri 10-15 giorni per l'approvazione, quindi possiamo dire che dai primi di marzo potremmo andare in pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sul Burle, da lì dovranno trascorrere i 15 giorni, dopodiché sarà legge della regione. Quindi diciamo che se per fine marzo noi abbiamo la legge pubblicata, poi ci sono gli ulteriori 90 giorni entro i quali tutti i comuni del Lazio debbono recepire la legge. Quali sono le misure principali del piano? Un piano che ha una filosofia e abbiamo deciso di dare un taglio completamente diverso, direi anzi addirittura opposto rispetto a quello che fu dato nel vecchio piano della giunta Marrazzo. Quel piano era un piano pieno di vincoli, pieno di no, tant'è vero che c'è stata la completa inapplicabilità da parte dei cittadini, delle imprese. Se solo pensiamo che in tutto il Lazio con la legge del piano casa voluta da Giunta Marrazzo ci sono soltanto state 122 domande, di cui appena 12 nel comune di Roma. Immaginate un comune con 3 milioni di abitanti, sono state soltanto 12 domande. Questo appunto perché quella legge era una legge ideologica bloccata dalle forze estreme della sinistra e dalle forze ambientaliste, per cui c'è stato un totale disinteresse da parte dei cittadini. Bloccando così di fatto la possibilità di aiutare tanta gente, ma soprattutto di sbloccare un settore vitale che rappresenta oltre il 30% del PIL nella nostra regione, cioè l'edilizia. Nel nostro piano invece prevediamo per esempio la possibilità di ampliamento nelle zone agricole, cosa che prima non era consentita, a fatto che la casa costruita ovviamente sia stata realizzata con una regolare concessione o anche, come diciamo noi, regolarmente condonata. E poi ci sono i cambi di destinazione d'uso per gli immobili a destinazione diversa rispetto a quella residenziale. Ci sono molti imprenditori che hanno investito soldi per poter fare alberghi, uffici e poi con il cambio del vento che c'è stato, la crisi economica. Ci sono molti imprenditori che hanno questi immobili fermi invenduti, con il rischio di licenziare i propri dipendenti e con le banche che stanno sopra e rischiano di far andare verso il fallimento tantissime imprese e tantissimi imprenditori. La nostra politica che intende invece analizzare quelli che sono i fenomeni della società complessa moderna, il compito della politica è quello di modellare la propria azione a seconda di come cambiano le situazioni economiche, sociali e culturali del paese. In questo senso abbiamo detto a quegli imprenditori che se volete un cambio di destinazione d'uso di quel vostro immobile trasformandolo in residenziale ve lo facciamo fare. A patto però a voi che voi, traendo ovviamente un vantaggio da questo, cediate una parte di quegli alloggi ai comuni affinché i sindaci possano dare risposte concrete a quella che è l'emergenza abitativa. Cioè le persone che si trovano di fronte a drammi senza avere un tetto in mezzo alla strada dentro un'autovettura. Ecco, questo è un esempio concreto di come è possibile coniugare sviluppo economico e solidarietà. Quindi un piano che se da un lato consente il rilancio del settore edilizio appunto tiene anche conto dell'emergenza abitativa e lo fa attraverso il mutuo sociale che è una vostra battaglia politica. Di cosa si tratta? Prima di dire del mutuo sociale vorrei dire che in quel 30% degli alloggi che gli imprenditori dovranno cedere gratuitamente ai comuni ci sono anche altri oneri. E cioè una monetizzazione, un contributo straordinario che danno ai comuni inferiori a 50.000 abitanti affinché questi comuni possano con quelle somme fare opere infrastrutturali, strade, fogne, depuratori, smattimento dei rifiuti. Ma poi c'è anche un'altra parte che verrà utilizzata per la costruzione di alloggi per i studenti universitari che non provengono da famiglie ricche. Povera gente che ha diritto anche loro a vedere realizzato il sogno di avere il figlio laureato. Oggi esiste lo scandalo di questi veri e propri strozzini che intorno alle città universitarie affittano posti letto a nero a 2-300-400 euro al mese. Ecco soprattutto per chi viene da fuori Roma non è più pensabile avere questo mercato a nero e noi una parte di quel 30% che prenderemo indietro in cambio dagli imprenditori lo utilizzeremo per fare questi monolocali e consentire con un prezzo di affitto simbolico magari di 50 euro al mese alle famiglie che hanno un reddito basso di poter avere il proprio figlio ospite in questi monolocali e quindi serenamente poter concludere il corso degli studi. Per quanto riguarda il mutuo sociale è una battaglia affascinante, una vera e propria rivoluzione. Il concetto spiegato in termini comprensibili poi è un po' più complesso ma prende di mira tre punti. Perché oggi gli alloggi costano così tanto? Vanno dai 2.000 a 2.500 fino a 4.000 euro al mese a secondo di quale zona della provincia o del comune di Roma si stia trattando? Costa così tanto perché ci sono tre elementi che influiscono in maniera determinante. L'altissimo prezzo dei terreni, terreni edificabili, costano 3, 4, 500 euro al mese al mese. Quindi interessi sui mutui altissimi ed è un secondo elemento che fa lievitare molto il prezzo di un alloggio. E poi c'è il terzo elemento, il legittimo guadagno che deve fare il costruttore quando realizza un'opera. Ecco, questi tre elementi fanno sì che un alloggio che costa all'origine 7-800 euro al metro quadro finito va a sbattere a 3.000, 2.500, 2.800, 3.000, 3.500 euro. Le persone con un reddito basso e le giovani coppie non potranno mai diventare proprietarie di una casa. Con il nostro concetto rivoluzionario del mutuo sociale che cosa intendiamo fare? Intendiamo rivolgerci a quelle fasce, appunto, diciamo le persone che hanno i requisiti per entrare nei gradatori delle case popolari, per intenderci. A costoro noi diciamo che la regione mette a disposizione le aree e quindi abbattiamo il primo costo, il costo dei terreni. Poi la regione costruisce gli alloggi, ovviamente la regione non è un costruttore che deve guadagnarci sopra, per cui quell'appalto verrà dato a 8-900 euro al metro quadro. E poi togliamo di mezzo anche le banche, perché tu comprerai quell'alloggio di 70-80 metri dalla regione pagando un tasso di interesse simbolico alla regione dell'1%, appunto il mutuo sociale. E poi diciamo di più, se tu sei un precario, comunque guadagni poco, non dovrai pagare una rata del mutuo altissima. Al massimo potrai pagare una rata che non supera il quinto del tuo stipendio. Tradotto in termini comprensibili a tutti, se io sono un precario e guadagno 1.200 euro al mese, con 200-220 euro io posso diventare proprietario di una casa. Qualcuno dirà, beh ma ci metto 30 anni. Non fa niente, il principio che deve passare è quello che anche la povera gente può diventare proprietaria di una casa, può fare sacrifici per 30 anni e realizzare un obiettivo di carattere culturale e rivoluzionario, lasciare una casa di proprietà al proprio figlio. Quindi un concetto molto chiaro, 80 metri quadri, 70-80 mila euro e la possibilità da parte di tutti, ovviamente le persone che sono sotto un certo reddito perché non è che noi possiamo sostituirci all'impresa, all'economia, altrimenti salterebbe tutto. Insomma dare la possibilità a tutti di poter diventare proprietari di un alloggio. Un piano partecipato che ha coinvolto i cittadini anche per la presentazione di suggerimenti e ai cittadini lo state presentando anche in questi giorni. Quali sono i prossimi appuntamenti? Due fasi di partecipazione sono state su questa lunga, complessa ma importantissima legge. La prima quella che abbiamo avuto in commissione che io presiedo, avendo coinvolto in moltissime audizioni praticamente tutti i soggetti interessati. Siamo andati dalle grandi organizzazioni dei costruttori, Lulcher, Lacer, Federlazio, fino a tutte le categorie dei professionisti. Abbiamo audito in commissione geometri, ingegneri, architetti, geologi, gli ordini professionali della provincia di Roma ma di tutte le province del Lazio. E poi abbiamo voluto ascoltare anche le parti sociali, quindi i sindacati, ma anche i movimenti che si battono per il diritto alla casa, compreso anche Action e Casa Pound, le due organizzazioni che si battono per il diritto alla casa, uno certamente riconducibili alla sinistra e l'altro certamente riconducibili a destra. È la prima volta che è accaduta una cosa di questo genere, sono molto orgoglioso e molto fiero di questo. Quindi una prima fase di partecipazione è quello che abbiamo avuto in commissione. E poi da 15 giorni sto vivendo questa bella avventura, presentare il piano casa in tantissimi comuni del Lazio. La settimana scorsa l'abbiamo fatto a Segno, l'abbiamo fatto a Mentana, l'abbiamo fatto a Capena. La settimana prossima lo faremo in provincia di Rieti, a Borgolose, lo faremo a Riano, lo faremo a Grottaferrada, andremo a Nettuno e poi nel Viterbese la settimana successiva. Impegni ogni giorno fino al 5 di marzo, ogni giorno un comune diverso per andare a parlare con i sindaci, con i tecnici, con gli imprenditori, con i cittadini del luogo, per far capire come davvero questa proposta di legge, se riusciremo a portarla a termine, insomma entro maggio-giugno sarà forse l'unico vero motivo di speranza per il lancio economico nella nostra regione per i prossimi anni.